La vivenza è cosa diversa dal matrimonio e funziona molto meglio perché il matrimonio comincia a esistere quando finisce, quando arrivano gli alimenti, la casa che va alla madre, cioè bisogna cominciare a pensare che il matrimonio è una visione di un mondo superato, la libertà di ognuno non può essere imbrigliata in qualcosa che ti costringe a pagare un altro quando finisce, quando i due omosessuali capiranno che dopo l'amore si arriva al divorzio e occorre pagare gli alimenti, capiranno che era meglio non sposarsi, quindi ho fatto il divorzio brevissimo per non acirinare. Quanto alla posizione di Giovanardi che è molto sensata, ha una strana contraddizione, è maggioritaria nel Paese ma minoritaria nel mondo del pensiero politicamente corretto, perché tutti, basta vedere il sondaggio sulla cosa mia, 141 mila, anzi sondaggio, le adesioni e 5 mila contro, noi lavoriamo per difendere le minoranze, ma non possiamo difendere a loro danno. Dice Rondolino, usando una parola sbagliata, intorbidare e intorbidire le acque, ma non intorbida Giovanardi, dice che la famiglia è un valore, che sia un valore, è questione che riguarda la religione e la visione del mondo, per me è un disvalore, per la famiglia nasce la violenza per i figli, nasce qualcosa che talvolta è protezione, infatti anch'io parlo di adozione di bambini lasciati, abbandonati, non di procreazione forzata. Allora, il tema è talmente complesso che non possiamo pensare che mille parlamentari votando con la maggioranza stabiliscano il senso della nostra vita, perché una minoranza vuole avere il diritto capriccioso ad avere una consorte ufficiale, l'ufficialità è la morte dei rapporti, questo volevo dire, io ho tre figli, salvo che uno magari ha voglia di scegliere di morire, perché poi tanti di noi scegliono di morire. Sì, ma perché uno deve scegliere di andare nella merda del matrimonio? Cioè, chi lo fa fare?